Durante questa emergenza i volontari ANPAS stanno facendo raccolte in tutta Italia di generi di prima necessità da consegnare a persone anziane ed immunodepressi. In alcuni comuni queste consegne vengono effettuati da volontari di protezione civile comunale o da persone che si sono offerte volontari. Proprio per questo abbiamo deciso di incontrare questi volontari per spiegare loro quali sono i comportamenti da adottare, quali la distanza di sicurezza oppure l'utilizzo dei dpi come maschere e guanti. Ricordiamo che i dpi sono importanti e ci proteggono ma solo se li utilizziamo in modo corretto.